Allora, siamo agli scavi di Cuma con una delle responsabili della soprintendenza degli scavi archeologici. Ah, ho capito, perché qui è... Il responsabile è il dottore Caputo, Paolo Caputo. Allora, abbiamo saputo di questa notizia che comunque si sono staccati alcuni calcinacci all'interno della grotta della Sibilla. Ma non è capitato adesso, già sono due o tre mesi. Onde evitare che potesse succedere qualcosa abbiamo transennato, ma si entra nell'andro della Sibilla. Perché a che altezza si sono staccati questi calcinacci? All'inizio... A 20-30 metri all'ingresso. A 20-30 metri all'ingresso. Quindi comunque è possibile, sia da una parte che dall'altra... Ma siccome all'interno viene gestita dalla società, sono loro che poi ci mettono in comunicazione, cioè ci dicono quello che è successo all'interno. Ho capito. Ma precedentemente ci sono stati anche problemi giù alla grotta di Cocceio, ci sono stati dei crolli? No. No? No. Sono stati fatti dei lavori al monte di Giove, sì. Quindi comunque a breve la cosa rientrerà, quindi sarà possibile di nuovo vedere la... Ma sì, no, ma quella si entra facilmente dalla Sibilla, si entra dall'altro lato. Invece di entrare all'esterno dell'andro, si entra dall'altro lato. Ah, ok. C'è una seconda uscita. Ho capito. Quindi il pericolo di non poter vedere uno di questi monumenti o il fatto che per esempio ci siano... Non c'è. Per il momento non c'è l'allarmismo, quindi... No. Che è stato... E' fasullo, non c'è. In allarme fasullo. Sono stati sempre accompagnati dai colleghi Ales per vedere l'andro della Sibilla e non c'è problema. Va bene. Io ringrazio la signora Esposito, ringrazio anche lei della cortesia, Angelo Guarino della Ales. E la signora Colandrea. E la signora Colandrea. Quindi per il momento non è compromessa la grotta della Sibilla che è il simbolo della nostra zona. Quindi ci teniamo particolarmente. Grazie. Prego. Grazie a tutti.